Edward Snowden, 29 anni, adesso ha un nome e un volto la talpa della più grande fuga di notizie sull'intelligenza statunitense. È lui che ha permesso di portare a gala lo scandalo Prisma sul programma di controllo delle comunicazioni lanciato dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana. Snowden è un ex assistente tecnico della CIA e ha lavorato presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza negli ultimi quattro anni come dipendente di vari appaltatori esterni. La sua identità è stata svelata nel fine settimana da The Guardian. Non ho alcuna intenzione di nascondere chi sono perché so di non avere fatto nulla di sbagliato, dichiara Snowden, che attualmente si trova a Hong Kong dove è stata girata l'intervista. La bufera è scoppiata la settimana scorsa e riguarda il programma Prisma che permetteva alle autorità statunitensi di entrare direttamente nei server di alcuni big del web del calibro di Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Facebook e AOL.